La rivoluzione pay tv in Italia arrivò nel 1993, il 29 agosto per la precisione, con la diretta su Tele più 2 in posticipo di Lazio Foggia. In quel caso un posticipo serale appunto, ma anche per i dilettanti. Ecco la proposta per rilanciare il movimento, parlando in questo caso specifico di anticipo, anzi di anticipi, come spiega Gianluca Corbani, neosegretario della FIGIC Cremona. Un anticipo settimanale per ciascuno dei gironi di seconda e terza provinciali, un anticipo settimanale al sabato, secondo un criterio di interesse sportivo, di rivalità geografica, di campanilismo, che incrementerebbe in modo sostanzioso, covid, permettendo i ricavi dalle società. Immaginiamo un Leoncelli Pescarolo, un Casale Sernianese, solo per restare a derby molto sentiti sul territorio, in campo il sabato. Il sondaggio tra le società è stato lanciato perché la FIGIC di Cremona, capitanata ancora dal delegato Andrea De Nicoli, non vuole forzare la mano. Perché questa idea? I dilettanti hanno un pubblico, non è tuttavia un pubblico costituito da spettatori neutrali, è un pubblico di protagonisti attivi, è un pubblico di giocatori, di dirigenti, di allenatori delle società concorrenti, protagoniste nello stesso girone, regalando a rotazione una gara in esclusiva al sabato a ciascun club, riusciremmo quindi a garantire quella visibilità che favorirebbe anche una ripartenza importante, dopo due stagioni nelle quali il calcio direttantistico ha molto sofferto, sia sul lato sportivo che sotto l'aspetto economico. Più pubblico, più incassi e non si esclude la possibilità di creare un vero e proprio evento mediatico accanto alla partita con una gara di pulcini o esordienti, prima, ad esempio, e un terzo tempo subito dopo. La proposta attecchirà...